Ciao a tutti, in questo video voglio farvi vedere un po' i miei rossetti preferiti per questa stagione inizio subito così non diventa un video lunghissimo vi faccio vedere prima di tutto quelli di Mac allora, questo è Show Orchid, è un Amplified ve li swatcho piano piano questo è il suo colore bellissimo poi abbiamo Up The Amp, sempre anche questo è un Amplified e questo violetto chiarissimo poi abbiamo Impassionate anche questo è un Amplified questo rosso eccolo qua poi abbiamo questo Retro Matte, il famosissimo Flat Out Fabulous questo rimane molto opaco ovviamente poi abbiamo un altro Matte, questo è Good Kisser chiedo scusa per le mie pronunce meravigliose e questo colore qua che io adoro questo è un Amplified, le Full Fuchsia eccolo qua eccolo qua questo è questo è un Retro Matte questo è un Retro Matte questo è un Retro Matte, è Alpha Red Up questo rosso questo rosso eccolo qua poi come ultimo abbiamo questo della linea Viva Glam l'ultimo uscito questo qua poi passiamo a due rossetti di Mulac questo è un Retro Matte questo è Flamingo questo è Flamingo poi questo è Flamingo questo è Flamingo questo è Marilyn eccolo qua questo rosso rosso stupendo poi un altro che mi piace tantissimo è questo di Shiseido il numero 308 molto piacevole questo sulle labbra eccolo qua poi abbiamo questo di Chicco il numero 10 più o meno i miei colori preferiti sono questi queste tonalità qua anche questi molto buoni come rossetti ne prenderò qualcun altro mi piace un sacco poi abbiamo due rossetti di Dior vi ho già fatto vedere questi poi negli ultimi video quindi li ricordate questo qua il 775 sono molto confortevoli sono molto confortevoli durano tantissimo proprio l'effetto non è inizialmente lucido ma poi tendono ad asciugarsi quindi rimangono abbastanza non opachi non opachi però non così lucidi come appena messi questo che ho indosso io adesso ho fatto il video prima è questo qua ed è il numero 688 questo l'ho acquistato proprio ieri avrei voluto farvi il video con tutti i rossetti applicati ma ci avrei messo un giorno intero ogni tanto mi devo fermare per pulire un attimino la mano ne ho aggiusto qualcuno ancora vi faccio vedere questo di Wicon è il numero 612 questo qua poi abbiamo uno degli ultimi di Chanel questo è il Rouge Coco 454 molto bello anche questo poi abbiamo questo è il 37 sempre di Chanel questa linea qui il colore è questo gli ultimi tre abbiamo questa tinta labbra di Wicon queste tinte sono bellissime allora ve la faccio vedere qui questa qua questa è la numero scusate 10 fucsia sì poi abbiamo questo di Vistan Loran ed è il numero 207 molto bella anche questa linea di rossetti ultimo è questo di Dior ve l'ho fatto vedere anche in uno degli ultimi video appartiene all'ultima collezione estiva di Dior eccolo qua di qualche rossetto di MAC o anche la matita abbinata perché io tendo comunque a fare sempre il contorno perché come sapete mi mi manca proprio e poi mi piace proprio le labbra ben ben definite quindi non so magari se vi può interessare siete curiose insomma fatemelo sapere vi faccio vedere anche magari le le matite questi sono tutti i miei rossetti preferiti quelli che amo di più indossare in questo periodo fatemi sapere se c'è qualche rossetto che mi manca all'appello magari se avete da consigliarmi qualche qualche altro rossetto anche di MAC mi fa sempre piacere io vi lascio devo scappare vi mando un bacione e al prossimo video